per vedere anche se siamo riusciti a risolvere tutti questi piccoli problemi tecnici ma è per il clinico e allora Andrea, un attimo allora ragazzi, mi ho chiesto prima della vostra esibizione se avevate piacere che vi facessi qualche domanda voi mi avete risposto di no e io ho detto mi arrangio in realtà non mi è venuto in mente niente per cui vi rigiro la patata e insomma lascio che vi presentiate ciao, io sono vorrei una domanda per me c'è qualcuno di voi che soffre di claustrofobia? basta tutto studiatissimo ragazzi allora lascio la parola a lui no dai qualcuno, una parola in presentazione ebbene, cosa volete sapere mi chiamo da Modena, vigno in provincia di Modena facciamo un genere di ispirazione popolare siamo di solito essendo percussioni piano ma questa sera siamo venuti in versione ridotta perché avevamo una macchina sola è vero ci hanno dato dove la verità e devo fare il complimento all'organizzazione perché siamo stati trattati molto bene a differenza di altri concorsi mi piacciono quindi grazie di tutto e spero che vi sia piaciuto di concerto ciao a tutti e ci vediamo a prossimo video grazie a tutti mi sembra come adesso abbiamo lì ancora sempre grazie a tutti grazie a tutti